sempre e ciao gerry ciao ed è come stai parlando ancora prima di andare in diretta io e te benissimo e tu bene molto bene il miglioramento cambiamento miglioramento bene fantastico miglioramento in cambiamento miglioramento no miglioramento è uguale sempre un cambiamento è un periodo un po l'energia sono abbastanza in movimento quindi gli vado dietro io ottimo ciao michela ecco michela che si è collegata ciao a tutti buonasera aspettiamo un attimo ciao valentina buonasera a tutti ciao un attimo il mio cellulare ciao angela la vangela ricambio paola anche tu sì perché di quali sono ve leggo facebook user invece di quali go i nomi ok ok e chi selene bellissimo nome bellissimo ciao laura marilena buonasera a tutti ciao capia katia si piano piano le persone si stanno collegando tendiamo ancora un attimo parleremo di qualcosa di nuovo cosa dice ciao ciao ma ciao angelo valeria per l'uomo ciao 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 ma nienta 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 io non ho ancora scritto porta pazienza mamma mia mamma mia ogni tanto vedo i nomi di codi non ho risposto ciao 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 è una cosa strana che non rispondo cioè tu mi conosci quindi certo ciao elisabetta ciao ciao elisabetta francesca non ti preoccupare tu sei troppo buona se gli dici così non ti risponde più di di rispondere devi rispondere rispondere aspetta fermo fermo volevo fare un post e dire vi prego cercate di avere pazienza perché sono veramente tante le persone che scrivono sono veramente tante le volte che mi dimentico quindi io rispondo poi dico si vado avanti a rispondere poi comincia il caos capito infatti un'altra signora ti scrive manuela ti ho scritto cosa che è che mando e la fiore di loto ti ha detto ti ho scritto e non è la aiuta adesso comincia con la mia super magica penna carina si è bella la vita angela ciao allora perché cosa c'è alla penna e bellissima magica è l'unicorno ciao roby guarda se anche ci sei visto guarda oppa allora mi hanno detto che mi vedono sempre troppo seria e allora mi hanno regalato la pena magica infatti quando l'ho visto ha cominciato a sorridere perché non me lo aspettavo ciao rosanna claudia bri no a tutti ri no e ogni volta mi viene caldo quando quando vedo è un abbraccio a te bri e un grande bacio claudia sempre allora ciao vale alessandra all'unicorno bella sia l'unicorno ci gioca stasera è visto però jerry come l'ha visto se invece no me l'hanno regalato è carino non è con certo non ho detto che brutto certo se lo trova il gatto l'unicorno non esiste più è esatto c'è anche le piumette la sua passione mamma mia vabbè allora allora jerry parliamo un po di come avvengono le dimostrazioni pubbliche intanto che aspettiamo magari che le persone un po di domande non so magari hanno qualcosa da chiedere va bene come dire parliamo un po di come di come è il mondo delle dimostrazioni pubbliche magari la differenza che avviene tra una sessione in privato e ovviamente una dimostrazione così anche le persone capiscono le diverse modalità e anche lo scopo di una dimostrazione pubblica buonasera nicoletta terry tu vedi prima io vedo dopo no li vedo di qua allora parto io parti tu dimmi tu partiamo insieme tanto non cambia niente in realtà ci sono penso che ognuno ha il suo modo di lavoro di rappresentare il mondo dello spirito nella medianità pubblica ogni medium è fatto a sé come dico sempre a me mi definiscono perché io non mi definisco media mi definiscono gli altri comunque la medianità pubblica è per dimostrare a tantissime persone che ciao patindi che il mondo del di rappresentare il mondo dell'oltre ecco perché alla fine noi rappresentiamo loro siamo solo questo mezzo nel quale possiamo solo rappresentarli e mai metterci al loro posto dimostrazione pubblica beh quelle che vivo io sono belle divertenti il mondo dell'oltre fa festa ci si diverte ci si si ride soprattutto perché non si stanno oggi ma anche come posso dirti non si entra soprattutto nel privato di una persona questo è da dire pubblica rimane pubblica quindi rimaniamo sempre sul sul pezzo ma sempre sull'alto l'anno possiamo entrare il mondo dell'oltre non entra specifiche molto importanti della vita della persona perché è pubblica in confronto a quella privata e la pubblica è più emozionante per chi l'ha vissuta tanta gente che c'è online l'ha vissuta con te con me quindi tante energie messe insieme tante energie unite questa situazione che il mondo dello spirito crea di famiglia e quindi è bellissimo perché tutti coinvolti tutti in silenzio tutti rispettosi quindi è fantastica questa cosa sì credo anch'io che allora sia importante però l'energia che si crea no in sala quindi normalmente in una dimostrazione pubblica è importante l'energia che chiaramente si va a creare c'è sempre quell'attimo dedicato veramente tutti insieme al mondo spirituale che serve poi a creare la modalità corretta di ciò che avviene durante la serata e ovviamente la dimostrazione pubblica ha lo scopo a volte anche sai ci sono persone che come dire partecipano a una dimostrazione pubblica però ancora sono lontani dal mondo spirituale ancora sono lontani dal poter pensare o dal poter credere la dimostrazione pubblica anche lo scopo di portare le persone a pensare a riflettere perché magari un giorno se ne avranno bisogno e si trovano ad affrontare dei momenti di difficoltà possano ricordare che una sera hanno visto quello che è una dimostrazione quindi magari pensare di avvicinarsi al mondo spirituale per capirne di più vengono gli scettici sì sì credo che sia importante anche questo aspetto nel senso che come dire più persone si riescono a toccare si riesce a toccare il cuore delle persone più a loro volta possono aiutare sai nella vita incontriamo sempre qualcuno che per assurdo si trova ad affrontare un lutto o sta per affrontarlo e se siamo un po più preparati a nostra volta possiamo dire sai però ci sono persone che comunque riescono quanto meno dare una parola di conforto e riescono soprattutto a far capire che aspetta che ho visto che c'è una continuità ok si viene spiegato questo però io volevo dire una cosa tante volte nelle dimostrazioni pubbliche arrivano le persone che fanno un lavoro meraviglioso nel senso ci sono tante persone che fanno le os lavorano ospedale le infermiere che ringraziano noi per quello che facciamo ma come dico sempre sono loro che ringraziano loro per il lavoro che fanno e la deduzione che ci mettono a curare le animi che sono in difficoltà quindi un ringraziamento soprattutto queste persone qua certo che è il lavoro più difficile lei è laura si e ci scrive io vorrei sapere se le anime che non sono verso la luce possono avvicinarsi ero in dormiveglia e una figura accanto a me scura provava a dire qualcosa con voce molto profonda ho avuto paura acceso la luce adesso venita era solo un sogno secondo voi grazie dipende dalla situazione cioè nel senso bisogna non è semplice la risposta perché bisogna valutare la allora bisognerebbe valutare anche dei stati d'animo bisognerebbe valutare il momento che stai vivendo questo periodo storico è un momento inteso come dinamica momentanea bisognerebbe valutare se per caso può essere una proiezione inconscia come dice jerry bisognerebbe analizzare tutto e rispondere in questo modalità per non dare una risposta affrettata certo a volte anche la nostra paura e ci porta a vedere come dire o a pensare che possano essere come dici tu una figura scura però a volte la nostra paura ci fa anche interpretare male ciò che per assurdo stiamo vivendo ma andrebbe analizzato bisogna capire bene quando succedono queste cose si aspetta perché ho perso selene se da tizi selene sento mio padre mi da consigli da padre come sempre fatto io lo sento tra pensiero utito sottile ma non riesco a percepire benissimo sono sempre in dubbio da quello che sento e percepisco potete dirmi se i miei dubbi da quello che comprendo sono certezze ci resto pure male se capisco una cosa per un'altra lui è veramente paziente io sono invece boh può essere non sapevo neanche di avere questa medianità ma da un anno quasi dal suo passaggio siamo sempre in connessione rispondi tucciare sì allora innanzitutto mai avere dubbi su questa cosa perché è giusto quello che percepisti percepisci ed è giusto quello che senti la tua media c'è questa connessione si vede che c'era un grandissimo rapporto da tre tuo papà perché c'è questa connessione fra voi due e tu hai bisogno ancora di essere spronata e presa per mano nella vita per andare avanti quindi ti sta aiutando naturalmente piano piano questa cosa si assottiglierà e si allontanerà un po' quando comincerai a prendere la tua strada ok quindi devi accettare tutti i consigli consigli e che ti dà e non avere dubbi soprattutto nella tua strada l'unica cosa che se tu ti trovi davanti un bivio la scelta dovrai farla sempre tu e non lui perché su quello non ti darà risposta perfetto allora sta dicendo se sto passando un periodo impegnativo che nella ragazza di prima che era laura angeli si arcangeli sì e quindi laura bisognerebbe capire un po tutto il momento che stai vivendo per poter dare una risposta un po' più concreta aspetta che ti trova su e laggiù sto litigando col cellulare allora piera ciao piera io vedo ombre sagome di persone ma non ho paura penso sia mio figlio ed era modalità corretta perché non bisogna aver paura la paura non non porta niente però essendo che siamo umani per chi invece si spaventa o ha paura è abbastanza che li inviti a tornare nella luce mi raccomando sempre fatto con garbo sempre fatto con dolcezza le invitate dicendo guarda non è il momento ho paura ti chiedo di tornare nella luce e piano piano si assottiglia tutto non vi capita più questo perché ovviamente invece si spaventa alessandra ciao alessandra ragazzi lavoro nella scuola con i bimbi e spesso anche stamattina sentivo delle vicine che mi delle vocine semmai che mi chiamavano e mi voltavo verso la porta sono altre presenze può essere può essere sì sì di bambini si vede che i bambini ciao giovanna ciao vera aspetta anche io vado avanti a salutare però è sempre che lei ha lavorando con i bambini lavorando con il cuore mettendoci tutta l'anima da sopra riconoscono questa cosa la chiamano se laura stanchi dicendo sembrava così reale comunque in questi giorni ha acceso palo santo ok piena invece dice che felice quando vede e pensa che sia suo figlio tranquillo no non abbiamo altre domande aspetto sto cercando di non scavalcare nessuno però ecco la la paura veramente mi chiamano per nome aspetta alessandra sta dicendo mi chiamano per nome ciao pat io sono in crisi non so più chi sono cosa sono vedo non vedo ma forse ora è solo un momento così anche a causa di mio padre che è andato di là e ci sto male non capisco più nulla sì ma vai ok non è uno sfogo ci sta è stai chiedendo aiuto per capire determinate cose ci può stare tutto ci può stare tutto soprattutto quando si perde una persona molto importante della vita in parte si va in crisi perché magari si vuole sentire si vuole toccare con mano quindi è normale che tu sia in crisi quindi ti direi per il momento di staccare un pochettino la spina proprio e fare dei bei respiri e rilassarti e concentrarti una volta che riprendi un attimino il tuo se interiore ripartirai alla grande però io penso questo sì e poi ci sta dicendo scusato uno sfogo non ti scusare ti prego non ti scusate cristina ciao cristina buonasera gerardo volevo chiedere se nell'oltre riescono a capire se gli chiediamo perdono per dei comportamenti sbagliati sì 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 certo che lo capiscono assolutamente sì c'è sempre da dire da ricordare che quando parliamo a loro ci sentono perché tante volte le persone dicono digli che no diglielo tu perché ti sentono quindi però sì assolutamente sì e laura finalmente questi giorni la chiesa ha ammesso che il limbo non esiste volete dire voi qualcosa a riguardo diciamo che piano piano chissà che cominciamo a volerci in tutti i sensi in tutti i modi e che piano piano insomma si riesca a essere più liberi avvicinandosi invece a quello che è in modo spirituale che non ha nessun dogma però io starei sempre attento sulla chiesa ma infatti io dico come dire giogra penso che sia importante che ogni persona sia libera perché l'ultimo a tocme l'importante che loro non si attacchino ancora ai loro se per il loro interesse loro servizi però sai le evoluzioni occorrono se non c'è evoluzione non c'è storia quindi occorre che le cose cambino si modifichino se poi tante volte si modificano in un modo o nell'altro però per fare la storia oppure anche questo laura la paura più per cosa che non conosci a voi non è mai capitato di avere paura ai davanti la paura in persona io invece no ecco hai visto ci stiamo aspettando e due io no io no anzi anzi ciao ciao cinzia io la paura in persona eccomi qua perché si intende la paura vedi spiego due cose allora alla laura no non è laura la laura la paura c'è perché naturalmente quando arrivano delle cose nuove perché la medialità è sempre movimento sempre in cambiamento quindi quando arrivano delle informazioni nuove dei cambiamenti nuove paura come per dire o mio dio cosa sta succedendo cosa mi sta succedendo perché sta cosa da quando e per come quindi quella è la paura sì perché non conosci quella come posso dire quella sensazione no che è diversa tipo come posso spiegare io chiedo sempre informazioni a chi avanti a me tipo ed è le altre persone di aiutarmi perché loro sanno che io ho queste paure però dopo un po che la conosci allora ti lasci andare completamente perché la capisci come le paure che abbiamo giornaliere normali no devi affrontarle devi capirle poi lavorarle e anche per c'è anche per me è uguale in quel campo lì quindi c'è per me c'è io sono acerbo io io non l'ho mai visto nei primi passi però dai sei acerbo però sì c'è chi ha paura c'è chi non ne ha io ad esempio non l'ho mai avuta non posso dire di aver avuto paura non anzi a rovescio quando percepivo la presenza mi sentivo protetta dico parlo quando ho iniziato e ho sempre amato questa cosa sì ma sono 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 ognuno poi come in tutte le cose ha una modalità di rapportarsi certo quindi ci sta che ci siano persone che hanno paura vedi uno a caso ma non è vero perché ormai adesso ti stanno passando sì ma anche la paura come dicevi prima di quando fai medianità pubblica perché fino al momento prima noi non sappiamo niente quindi se lì c'è davanti tutte queste persone incominci c'è qualcuno qualcuno parla che cosa gli possiamo dire quindi c'è anche quella perché in realtà non riesci neanche prepararti prima no no zero proprio zero 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 del accordo sì ma lo so crede me intanto dico vabbè se non arriva nessuno poi vabbè è l'attimo dell'inizio perché poi in realtà quando cominci le cose vanno sì il problema è i minuti prima sì che però vabbè insomma dai ci stanno sì luciana sono frastornata da poco mia mamma andata nell'oltre sono stata con lei fino all'ultimo respiro ora mi sento molto calma e tranquilla non che non mi dispiace la sua dipartita però la sofferenza lì c'era è normale questa cosa io l'ho provata con mio papà sono stata con lui fino all'ultimo e quando è andato non che non avevo là il dispiacere perché quello però forse mi sentivo leggera con lui perché era finita una parte di sofferenza per lui le malattie e quindi mi sono resa conto che ad esempio con lui ero molto consapevole di ciò che capitava e ho affrontato la dinamica del lutto ad esempio in una modalità diversa rispetto che con mia mamma però con mio papà mi è capitata esattamente questa cosa avevo un senso di leggerezza quindi avevo ovviamente il dispiacere ma nello stesso tempo avevo un senso di leggerezza quindi penso che sia normale penso che sia proprio consapevolezza sai questo è per te un pensiero a tutti i bimbi del cielo assolutamente se sempre io non vedo non sento nulla aspetta che vengo a prendere angela io non sento non vedo nulla ma ho la sensazione di essere aiutata moltissimo dal cielo è una mia sensazione o questo può cadere chiedo energia e illuminazione per ciò che faccio ringrazio sempre ho con loro un dialogo giornaliero ma ripeto non sento non vedo solo una volta dall'orecchio destro ho sentito una voce femminile né maschile che mi ha detto di essere arrivato arrivata in cielo ma poi non mi è più successo se la modalità loro hanno mille modalità per stare in connessione con noi siamo noi che cerchiamo di metterti catalogarle ma poi invece dimentichiamo che quando quando parliamo del mondo spirituale loro trovano la moto la modalità di connessione con noi la trova un attimo mi è successo proprio oggi come come tutti voi anche io sono terreno quindi ci sono dei momenti in cui sto facendo devo imparare delle cose sono in cambiamento ed era una fase un po così e così mi sto riprendendo da un paio di giorni stamattina scendo dalla macchina e trovo tre monetine da un centesimo e vai il soldino che lì per lì dico vabbè parlando te stasera adesso mi sono ritornata in mente ma perché alla domanda della ragazza dell'angelo io ho più di tre persone nel mondo dell'oltre però tre persone che mi aiutano quando canalizzo ok c'è quindi quei tre centesimi adesso ho capito di chi sono appartiene uno a testa quindi la modalità loro di di aiutarmi e farmi capire che mi sono vicini moltissimo da lassù non è semplice lo dico sempre essere medianico non è semplice è la fatica quindi va bene dei soldini del centesimo ne parlavo quando ho fatto la diretta con Nicoletta Aprile dicevo appunto che ho fatto tutto questo periodo trovando un centesimo dicevo il soldino e dicevo lo voglio anch'io il soldino però sì è vero quello che dici io adesso ho cominciato a trovare i due centesimi sentito che ho detto ma sempre uno di centesimo cioè non lo so un 5 centesimi ho cominciato a trovare i due centesimi ha detto ah no scusami scusami infatti non capisco come mai gli esorcismi sì e l'oltre non lo ammettono ecco perché io non credo perlomeno non in dio a parla della domanda prima della chiesa che ha confessato che non esiste l'imboli però io sono sempre veramente molto molto ampio questo sì molto ampio soprattutto se entriamo a parlare di esorcismi non usciamo più dunque anto ciao anto scusatemi so che più vogliamo sentirli più non avvertiamo la loro presenza c'è un modo per controllare questo pensiero che ormai è quasi un'ossessione rilassamento rilassamento lasciare andare la mente sì però bisogna educarla la mente quindi in realtà hanno come dire per poterli percepire occorre andare oltre quello che è la mente razionale oltre i nostri pensieri oltre le nostre distrazioni più noi ovviamente stiamo nella mente razionale più è come essere in discoteca e voler sentire qualcuno che vi sbiglia si fa fatica quindi occorre lavorare su noi stessi educando la mente fino appunto a poter raggiungere quello che è uno stato di quiete la meditazione una tecnica che non va mai 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 dimenticata quindi magari prova a fare della meditazione breve all'inizio aiutati una meditazione guidata oppure della musica rilassante qualcosa che possa portare uno stato di quiete quello che occorre in realtà è questo alessia ciao alessia allora mia amatissima cagnolina andata nell'oltre non riesco ancora a metabolizzare la sua perdita quando le parlo lei capisce oppure fa fatica essendo animale e la rivedrò un domani allora per rivederla allora io penso che più che altro la potrai percepire perché anche per per in casa soprattutto se magari o dormiva con te o aveva un suo posto tipo sul divano così magari ogni tanto vedrai la sua sagoma ok potrebbe essere anche questo quindi magari nei momenti un po di sconforto potresti anche sentire queste cose c'è c'è una comunque ci sono degli studi ci sono anche dei corsi che insegnano comunicare con gli animali in realtà gli animali riescono a farsi percepire a distanza di tempo a volte l'odore dell'animale a volte si fanno sentire ad esempio la mia amica che è andata nell'oltre oltre un anno fa ma anch'io non è che l'abbia ancora io non l'ho proprio digerita non metabolizzata però vabbè il primo periodo lei saliva sul letto e ovviamente io la sentivo no? e è capitato due o tre volte che ho pensato che fosse Leo a salire sul letto ma lui non viene l'altro gatto perché lei ovviamente è gelosissima ogni volta che lui faceva per arrivare soffiava lo faceva scappare quando avevo questa sensazione del gatto che saliva sul letto io accendevo la luce ma non c'era niente il Leo in realtà non veniva e quindi capivo che era lei e ovviamente c'è questa connessione dobbiamo sempre ricordare che a volte ad esempio gli animali si presentano durante le sessioni che si fanno di medianità e magari sono animali che sono andati nell'oltre non recentemente ma a distanza di anni quindi rimane un legame forte e in quanto rivederli io penso di essere una tra le prime che spera di rivedere che è appunto chi c'è di là compreso gli animali guarda perfino gli uccellini ciò cioè non mi faccio mancare niente allora penso di sì perché ultimamente stanno mi sta succedendo anche questo dei cani dei gatti proprio entrano nella nel contatto li vedi che si muovono è stato forte c'è stato un pastore scusa se ti ho interrotto no c'è stato un pastore tedesco un lupo nero ok e stavo facendo questo contatto arriva si mette la signora era seduta lui si mette così la guarda come faceva e fa sì lui si sediva sempre così in parte a me perché gli dava da mangiare quindi è importante cioè fargli capire che ci sono anche loro quando queste cose nei contatti mi sta succedendo ultimamente quindi per questo le paure succede sempre qualcosa di nuovo allora mi chiede come sta leo allora grazie intanto che che mi chiedi leo è stato operato gli hanno tolto completamente tutti i denti sotto ovviamente non è stato possibile io speravo che non gli togliessero completamente tutti i denti perché la vedo una cosa abbastanza traumatica però gli hanno tolto i denti sotto gli hanno messo i punti i denti sopra sono riusciti a come dire a pulirli un po e quindi per adesso siamo riusciti a bypassare il problema del togliere anche quelli sopra ovviamente ad oggi sono dieci giorni che è stato operato quindi ancora difficoltà a mangiare i primi giorni ha tentato di mangiare ma non riusciva perché sicuramente aveva del male anche se gli ho dato l'antibiotico però è tranquillo lo sto tenendo molto controllato quindi qualsiasi cosa posso avere le gengive adesso lo tengo veramente monitorato e grazie per avermi chiesto ma Leo non è l'ultimo che hai preso quello prima Leo è il mio gatto che ormai va per gli undici anni quello che ho visto io quello tigrato quello che ogni tanto mi sentite dire aiuto aiuto è il Noè quello invece è ancora un cucciolotto ma quello mi distrugge la casa quello mi renda a rimirare tutte le cose che si riescono a distruggere in un modo abbastanza importante Leo no è pacifico però Leo me lo ricordo l'ho visto Leo ha proprio questo problema dei denti guarda un problema sai ti giuro immagino è per noi figurati per loro figurati a toglierli tutti in una botta sola poi ci sarà chi dice vabbè è un gatto vero hanno ragione tutti però quando cominci a averlo in casa da undici anni amici a diciassette poi sai comunque fanno parte della famiglia non è che perché interagiscono tantissimo loro e quindi ti dico l'ho portato a operare mi sembrava che dovessero toglierli amai i denti un'ansia no 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 ti capisco allora Roby io ho paura che vengano entità non di luce Roby la mia Roby Roby ti ho spiegato mille volte che la paura purtroppo quando se tu hai paura di una cosa sotto un certo aspetto crei la condizione perché devi avere paura allora un passo piccolo per volta ogni volta che hai la sensazione affidati alla luce lascia stare la paura che non è nel tuo caso scusami però Roby la conosco bene si no no esatto bene la devo sentire anzi va bene Leo come sta? l'ho appena detto Roberta altrimenti sarei felice di vederli stai tranquilla perché tanto visualizzare chi è nel mondo dell'oltre è qualcosa di fantastico bella questa domanda Rossella la morte è un'entità si può parlare con essa come ho sentito dire allora io parlo per me stesso io non ci ho parlato eh? io non ci ho ancora parlato la morte potremmo sì definirla sotto un certo aspetto un'entità se dovessimo guardarla come un qualcosa che ha una sua forma e probabilmente potrebbe essere anche definita un'entità parlare con con la morte considerando che la morte è un passaggio per noi quindi è un qualcosa di naturale tra l'altro eh perché dovremmo entrare nella dinamica che la morte è un processo eh naturale per noi non è un qualcosa di tragico come continuiamo a pensare ehm potremmo parlare con essa o quantomeno nel momento in cui si parla con la morte è una modalità per prepararsi ma io ora sempre nella convinzione che ehm parlare con la morte come un titan nel senso del passaggio di ciò che facciamo noi da un corpo fisico ovviamente eh per rientrare in quello che è la nostra dimensione sia una modalità per esorcizzare quel passaggio ma anche per prepararsi io la vedo molto in questo modo ok guarda è qualcosa di importante comunque per prepararsi sai perché eh noi continuiamo a parlare come dire eh di tutto e di più ma sotto un certo aspetto mentre parliamo del mondo spirituale mentre parliamo eh di quanto loro vengono a comunicare con noi dimentichiamo anche che il motivo per il quale loro vengono è il come dire è veramente dare la prova della nostra sopravvivenza non solo della loro perché anche noi andremo nell'aldilà e di conseguenza anche il prepararci a questo passaggio che faremo tutti ah quello sì però sì sì c'è paura della morte Gerry ok dunque eh Mariella ciao Mariella la sera di Capodanno del 2022 mi è apparsa su una foto in casa in un fascio di luce l'immagine della mia cagnolina mancata due anni prima che meraviglia mamma mia che meraviglia fantastica 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 fantastico sì amo queste cose Tina ciao Tina il mio Alessio è felicissimo che siamo riusciti a connetterci fin da subito adesso mi ha dato un altro compito quello di riuscire a connettermi con gli altri mi ha detto che questo deve essere il mio percorso di vita devo fare da portavoce meraviglioso meraviglioso sì ed è giusto perché è la modalità di portare aiuto meraviglioso i minuti prima di una medianità pubblica sono strane perché c'è troppa aspettativa da parte dei partecipanti che è sbagliata l'aspettativa tra l'altro meraviglioso perché non lo sappiamo neanche noi sì infatti noi sentiamo voi che vi aspettate e noi diciamo bene stasera così li raccontiamo parliamo di che cosa infatti cioè comunque poi c'è veramente un affidarsi sì perché comunque il mondo spirituale arriva nella modalità che ritiene però è quell'aspettativa che è sbagliata poi è chiaro che ognuno aspetta che qualcuno arrivi per sé però chi fa la dimostrazione pubblica sente l'aspettativa di chi è in sala sente l'aspettativa sente la tensione c'è da dire che noi sentiamo tutto siamo completamente immersi nel tutto e quindi sotto un certo aspetto l'aspettativa è anche un creare quello che è una tensione invece bisognerebbe lasciarsi fluire lasciando che le cose arrivino nella modalità più serena e in quella modalità capitano le cose più fantastiche ciao Giovanna ecco che risponde a Roberta se vivi nella vibrazione dell'amore nessuno può nocci brava Giovanna vero Laura mi fa piacere comunque sapere che ci siete che affrontate tutti i giorni a medianità mi dà maggiore fiducia nell'aldilà ho sempre creduto in Dio siamo fatti di anima e l'energia mi basta vedere l'universo infinito e capire che meraviglia è la vita grazie per quello che fate vi devo già salutare stasera a presto grazie a te bellissimo messaggio grazie a te veramente Raffaella io li sento con qualsiasi rumore ovviamente non li capisco bene normale normale Giovanna una volta mi trovavo al cimitero dai miei genitori ero davanti alla mamma quando mi sono sentita attratta da qualcosa mi giro dalla parte di mio padre vedo una sagoma scura non tanto definita era anche sull'imbrunire questa sagoma era sicuramente femminile ma vestita tutta di nero si è girata verso di me e quando si è sentita osservata si è dissolta non mi è più successo non avevo paura mi ero molto stupita chiedo perché era tutta nera questa sagoma e perché si è dissolta aspetta così velocemente è il discorso di prima nel senso che bisogna capire la situazione quando si vedono queste ombre scure queste sagome scure perché di solito non ho una risposta definitiva capito perché devi cioè bisogna capire proprio il momento può essere come hai detto tu prima magari uno stato di di confusione uno stato di pensieri o uno stato di quando sei giù di morale quindi bisogna capire poi non era neanche tanto definita quindi ecco la nostra vera che ci dice ciao vera noi ci vediamo tra non tanto certo che la chiesa ci ha cucato tante paure ricordo che tanti tanti anni fa ero una bambina e scrivevo i miei peccatucci per il timore di dimenticarli proprio stupidotta poi sono cresciuta eh sì anch'io anche tu scrivevi i peccatucci non me li ricordavo te li ricordavi no mio Dio poi mi mandavo dentro a confessare facevo il chirichetto ragazzi io facevo il chirichetto beh allora io cantavo in chiesa vuoi mettere poi mi hanno buttato fuori certo però qualche cantata in chiesa l'ho fatta nel coro bello bravo ma che ma no mi ci mandavano ma che bello bravo ero piccolina sai eh anch'io però tutti andavano a fare la chirichetta e io facevo il chirichetto lo facevano tutti seguivo la massa eh tu facevi però era bello mi piaceva io ovviamente ero nel coro con le bambine e ogni tanto ci portavano in chiesa a cantare insomma per sapere come sono intornata oggi non lo so come era quando ero piccolina allora Alessandra spesso i brividi credo sia mio papà dalle spalle in giù come una cascata in una diretta con Nicoletta nel suo foulard ho visto il viso del mio papà era la sera che ero con Nicoletta solitamente solo durante la messa che faccio fare ogni mese nello stesso punto lo vedo bello 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 Ale bello si brava allora ciao Katia vorrei solo dire a chi va in crisi che oltre ai nostri cari ci sono molte entità che lavorano su di noi per riequilibrarci solo che quando siamo sfiduciati abbiamo solo dubbi qualche giorno fa un medium molto bravo e conosciuto durante un laboratorio ha visto dietro di me questo tipo di guarigione la cosa particolare è che io poco prima avevo chiesto per conto mio proprio un aiuto di questo genere e senza che questa persona sapesse niente ha visto aspetta la cosa prende ha visto questo grande amore vicino a me pura perfezione non trovo altre parole un abbraccio a tutti grazie grazie che hai fatto questa condivisione grazie Katia ha letto Laura anche io due centesimi da rispondere a Katia ha visto solo Laura in movimento ha visto Laura in movimento perché ogni medium gli altri sono capaci di guardare vediamole eh sì vediamole vediamo le aure quindi se una persona ha fatto qualcosa per se stesso ha chiesto qualcosa nell'energia si vede Laura anche tu due centesimi vai se li facciamo insieme andiamo tutti in gita sì allora parte due centesimi non vale io rimango per i 500 euro che mi avete bocciato l'altra volta anche io trovo il soldino eh no troviamo sempre il soldino piccolino già per essere passati o due patin di ti dà una novità i 500 euro non sono più in giro li hanno tolti dal commercio lo sai quindi non li troverai mai e se li trovi non valgono allora io trovo spesso i centesimi Angela un giorno hanno trovato i quattro lungo il percorso a piedi che ho fatto tutto ciò è meraviglioso grazie grazie a te grazie a te sì Mario mia madre invece è rimasta sola durante il come durante il trapasso a 67 anni e nell'orecchio destro mi ha chiamato il giorno prima implorandomi di andare da lei il giorno stesso gli risposi ad alta voce nel dormiveglia dicendogli mamma non posso non mi fanno entrare tocca domani a me lei insisteva tantissimo ma io non potevo davvero perché mia sorella il giorno prima era andata lei senza appuntamento accompagnata da me gli parlai di questo e lei rispondeva sì lo so aspetta sì lo so che è venuta Alessandra ma ora devo ma ora devi venire tu se non puoi non fa niente mi disse non preoccuparti ciao amore mio il giorno dopo stavo andando e mi chiamano dall'ospedale dicendo che era appena andata via wow c'è questo tipo di connessione sai l'anima è distaccata quando sei in coma può venirti a salutare così sì ok sì c'è proprio questo tipo di connessione grazie per questo tuo messaggio grazie io trovo Piera io trovo cuore ovunque sono sicura che mio figlio è sempre con me certamente allora aspetta questa è Giovanna che risponde aspetta a Rimini mi sono fatta fare l'epilo dell'aura nei fotogrammi mi sono ritrovata immagini di cagnolini bello mariella l'immagine della mia cagnolina mi è apparsa sul muro in un fascio di luce rosanna dice anche il mio cane eccola qui mariella noi qui sulla terra in quanto materiali con gli occhi fisici non possiamo vedere il mondo dallo spirito ma gli spiriti a noi ci vedono se sì come fanno vederci se non hanno la fisicità degli occhi spero di essermi fatta capire ho fatto un po' di casinotto no non è vero che hai fatto un po' di casinotto stai parlando di un qualcosa che va oltre la dinamica fisica e dimentichi che noi non siamo fatti solo di fisicità e che quindi non siamo un involucro e poi non c'è altro quindi il mondo spirituale in realtà ci vede ci percepisce ma ci percepisce attraverso quello che sono anche i nostri corpi sottili e quindi sì assolutamente sì sì Michela ciao Michela il mio cane è passato oltre e quando camminavo in giardino mi sentivo tirare i pantaloni come quando l'avevo amore amore bello selene perfetto grazie la risposta che volevo l'affermazione appena troverò la mia strada poi lui si allontana mi ero dispiaciuta lui subito ha interagito proprio adesso appena avete la famiglia realizzata andrà a missione per completare la sua purificazione per circa un anno ma i tempi sono diversi di qua mi dice ma se ho bisogno di lui contatto un medium può farlo può farlo può venire sono felice io lo sento sotto voce e stasera la conferma di questa connessione sia più vera di quanto aspetta che ti vengo a prendere di quanto immaginavo sì assolutamente sì Maria Teresa tanti auguri che oggi è tuo compleanno auguri tesoro spero si rimetta bene sì sta parlando del Leo guarda è super controllatissimo adesso sta dormendo sulla coperta caldina però gli animali qua da me sono come bambini eh gli animali sono membri della famiglia assolutamente guai a chi li tocca mi dispiace per Leo ah vera mi dispiace del per Leo la tua sofferenza è pari a quella del tuo micio anche se diversa sì diciamo che ehm ogni volta che hanno qualcosa mi accorgo un po' come quando ci sono dei bambini piccolini mi accorgo lo percepisco subito però dai eh si sta riprendendo oh Anna Maria Speri ciao Anna Maria ciao Anna hai visto ti ho messo la maglia azzurra e vai neanche farla a caso neanche farla a posto eh sì sì gemelli Laura no è della mia gattona popi ma dai che bello sto nome è entrata un arcabaleno il 29 dicembre eccoci qua dopo 17 anni insieme non avevo più lacrime mi manca tantissimo vero sono gatti ma per noi sono molto di più la mia amicia è andata nell'oltre anche lei aveva 17 anni abbiamo fatto l'ultimo periodo ti dico massacrante eh quando è andata nell'oltre qui lo dico qui lo nego mi sono dovuta far sostituire perché avevo la diretta ma avevo gli occhi immagino veramente sì eh 17 anni insieme sono tanti sono tanti eh era veramente una parte di me più che che una parte della famiglia era una parte di me capisco cosa vuol dire non averli dopo 17 anni ma anche quando restano meno tempo con noi quando mancano è veramente anche perché gli animali vedi io mi ricordo mio papà è una cosa particolare mio papà quando è rimasto vedovo era rimasto con questa cagnolina che lui all'inizio non voleva e però ovviamente doveva prendersi cura di lei e in un primo tempo il primo periodo lui si è ritrovato a vivere da solo poi mio fratello è andato a vivere con lui però questa cagnolina insomma è riuscita a riempire quel quel vuoto che c'era nel periodo successivo diceva sempre una frase e diceva se muore neve così l'aveva chiamata muoio anch'io e io ogni volta che diceva questa frase dicevo ma insomma ce li hai i figli non è che però era il suo modo per far capire quanto lei potesse invece riempire le sue giornate e quindi capisco quanto loro siano importanti anche tu Gerardo in sintonia dice Anna Maria sì per i colori eh sì mariella arrivando nell'oltre vedremo subito i nostri cari defunti yes ci vengono a prendere ciao maria ciao lina ciao a tutti sto salutando le persone che stanno salutando adesso allora ciao Emi buonasera ciao Sabri ciao Sabri aspetta fermo grazie a te Katia di quello che hai comunicato a noi grazie a te ma dove sei andato a prendere la Katia no Katia Katia si tu dove sei scusa ah sei Laura Pietro no aspetta non lo trovo quello aspetta sono con Sabrina ok ok perdono scusa moi please excuse me lo parli bene però senti la pronuncia e buonasera io ho una curiosità è possibile che pensando a un personaggio famoso come nel mio caso un cantante che apprezzo molto e che non c'è più e che non si è mai conosciuto in vita può inviarti dei segni come per esempio una sua canzone in un momento particolare proprio quando ci voleva ti scalda cuore mi è capitato più di una volta ma mi sembra possibile non è possibile possibile nulla è impossibile tutto è possibile tu immaginati quando arrivano da noi che per farsi riconoscere cantano e tu devi imitarli e incominci a ridere perché dici no così non posso e tu li senti cantare perché eppure devi farlo perché se no non smettero pagherei per sentirti cantare no ti prego non farlo la sera che siamo insieme perché non riesco più a stare seria se no poi no no ma è bravo vai bravo non ti lega a mente di mettermi a cantare durante la dimostrazione a una serata a una serata qua a Bergamo è arrivato un signore che faceva piano bar karaoke tu immagini di questo signore che suona il pianoforte in tanto canta io devo cantare una canzone e io che metto ridotti perché non farmi lo fare poi la non la canto tutta le catto un pezzettino però tanto per far far vedere che era lui e si presentava così ha fatto così no sto ridendo perché sto leggendo l'ultimo commento in fondo che dice Manuela Ciacchetti scusami ti ricordi Gerardo che hai cantato Vasco per me si non mi ricordo ma può essere normale fantastico sì sì è proprio perché danno questi riscontri a torretti che vabbè ok allora si se ti prego non farlo quella sera no devi chiederlo a loro io non faccio niente sì glielo devo chiedere perché se capita poi non riesco più a starse aspetta aspetta tenete con un'altra tiziana ah ok la tiziana invece mi dice avevi cantato un pezzetto di quella canzone indiana ok indiana non ci credo che canzone è indiana oddio non me la ricordo però loro si ricordano io non mi ricordo niente non mi ricordo secondo te non mi ricordo che canzone era non mi ricordo il contatto sì certo quello per forza lo so però come hai fatto a cantarla indiana no non penso che sia non penso che non so la lingua indiana penso che sia qualcosa italiano ma non indiana ok come povera ragazzi va bene lasciano stare povero io non loro comunque vabbè allora Lara qualche notte fa mia figlia si è svegliata perché ha sentito il peso di qualcuno che si sedeva sul bordo del letto si è voltata ed ha visto un uomo seduto appunto sul letto e molte altre persone in camera sua ha girato lo sguardo e ha visto la gatta in allerta mia figlia mi ha detto va bene basta che mi lasciate dormire ah gli ha detto si è girata e si è rimessa a dormire ma perché tanta gente sconosciuta intanto tua figlia è una grande perché ovviamente non si è spaventata no beh tanta gente sconosciuta noi viviamo comunque in mezzo a loro eh cioè non è che loro sono da un'altra parte quindi probabilmente percezioni predisposizioni quindi può capitare ma è stata brava a non spaventarsi brava allora Laura quando ero bambina mi capitava spesso di sentire qualcuno che si sedeva sul letto accade ancora ma non più così spesso come da bambina sì è normale sì mia figlia non è più tanto bambina però è stata brava comunque a non spaventarsi Sara voi avete mai visto uscire il corpo eterico dal corpo di una persona appena defunta è graduale però la cosa è del distacco quindi non è che come muore il corpo no c'è una precisazione da fare dipende come avviene la morte perché nel caso di un incidente è istantaneo ma nel caso di una malattia è graduale quindi in realtà no io non non l'ho mai visto l'anima sì no no l'anima sì nel senso dove abito io è morto un dottore ancora un po' di tempo fa in un incidente stradale e diciamo non è la sera comunque nella giornata mi sono visto lui seduto sul guarda cioè vicino al guarda è come se stesse ancora guardando la scena non so perché era lì magari e aveva lasciato la sua energia intensa perché era appena successo questa cosa però l'ho visto lì sì c'è veramente differenza tra la malattia e quello che dici tu come dici tu sì allora Rita gli animali sono la cosa più bella che c'è io penso a tutti quelli che sono soli con questo freddo chiedo sempre a Dio di proteggerli da ogni pericolo se è una cosa Rita lo faccio anch'io lo faccio anch'io non solo a quelli che sono soli con questo freddo a quelli che vengono maltrattati a quelli che vengono le persone sanno essere cattive a volte sì e devo dire che spesso e volentieri prego per questo allora Marilena in una diretta di metafonia le anime parlavano di oltre come se fosse un nuovo mondo con case fiumi fiori secondo voi è così come lo descrivete voi l'oltre fantasticamente che possiamo riprodurre ogni cosa che vogliamo e quindi sì diciamo che il nostro l'era è quello che si avvicina di più io ancora non l'ho visto e te lo dico ti do la risposta alla domanda di prima che mi hai detto se ho paura della morte spero di vederlo molto più avanti possibile io invece ti devo dire che ho fatto un'esperienza di premorte e quindi diversi anni fa e ho visto dei colori che qui ad esempio non ci sono non li saprei non li so descrivere non so qualcosa per poter dire era come quello lì o come quello là però sì case fiumi io ho visto colori però leggendo so che possiamo ricreare ogni cosa che vogliamo Manuela Vasco vorrei sentire anch'io che canti Vasco guarda che mi stanno mettendo in testa i Queen quindi smettila di parlare di canzoni beh io con i Queen lo sai che ho un rapporto lo so è per quello che ti dico di smettere che tanto non te li canto anche perché me li devi cantare in inglese no in italiano bergamasco esatto mentre si continuano a parlare sento qua che cominciano lasciamo stare e lo sentiamo in diretta cantare qui ragazzi evento storico no la soddisfazione non ve la do però mentre tu parli ti comincia a sentire e allora hai detto no ragazzi non si può stasera eh però magari se si stiamo che mi ci metto io con loro prima dei dei abbiamo ancora 20 minuti guarda per riuscirci si sa mai nella vita eh Sara ciao poche settimane dopo che la mia dolce amica Linda se n'era andata mi capitava spesso di pensarle per radio passavano la sua canzone preferita o in un momento di sconforto chiedendole di darmi un minimo di coraggio che ha avuto lei in vita mi è comparsa davanti agli occhi una lucciola era dicembre fantastico sì ha mai cantato un pezzo della canzone indiana Enrico De Barbieri il film solare rappresenta al meglio il mondo spirituale grazie mille per la vostra positiva presenza sì sì però va interpretato nel modo corretto certo va interpretato veramente nel modo corretto va proprio capito quel film lì però sì bisogna guardarlo riguardarlo riguardarlo bisogna capirlo perché ci sono dei tratti che possono far venire l'angoscia ma invece se lo capisci riesci a capire veramente determinate dinamiche certo ma povere ragazze sì infatti famosa canzone hai cantato una canzone degli indiani d'america ma non ci posso credere Tiziana io ti ho detto che non mi ricordo mi ricordo che capitano queste cose cioè io gli faccio fare quello che hanno voglia quindi loro mi usano come strumento mi fanno camminare come vogliono loro decidono loro come palisarsi no e tante volte ti ho detto tante volte capita che magari comincio a sentire una canzone io no non posso ma proprio così la gente io no ragazzi vi prego no no e loro e io dai devo cominciare a cantarla e loro dopo passa se no vanno avanti ma perché è un riscontro verso la persona è un'evidenza verso la persona che ho di fronte soprattutto perché non dici il titolo scusa no il problema è che loro non mi danno il titolo loro mi danno la canzone lo so ma come vasco rossi uno è vero che in quel momento non hai la facoltà di certo certo io rido solo e dico vi prego no ma anche quando ma anche quando arrivano dei nomi strani veramente io no vi prego queste figure no è loro sereno allora io dico il nome ah sì mi vicino di casa io ho perché non male ci sono di quei nomi nessuno quindi comincerò a pensare ai queen intanto che leggo le altre domande no no ho chiuso e guarda tutti che dicono sì sì ragazze cominciamo a pensare ai queen cominciamo a pensare a freddo no no che adesso lo vediamo per un attimo col braccio alto no 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 se vuoi ti do qualche titolo di quelle che mi piacciono di più no no ho chiuso loro sanno che non faccio queste cose in diretta quindi ho chiuso cioè guarda te l'ho detto l'importante è che non lo fai la sera della dimostrazione perché non ce la potrei fare giuro cominci a ridere tu ridifico la gente che ce l'ho già fatto no non rido dai Jerry cantaci qualcosa guarda qui ale 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 allora aspetta che guardo edel io ho vissuto mari che cosa hai visto tu mari visto che mi parli di anche tu di un'esperienza di andy e michela comunque ti dice dai canta eh io ci provo eh a cercare di far accadere vediamo ma se fare resistenza non ce la facciamo no no sono caput ebbè per fare una sviolinata ai due secondi allora Anna pure io capisco perso fiocco il 29 agosto il giorno prima del mio compleanno aveva quasi 18 anni ma non è morto per vecchiaia ha avuto un problema è andato a veterinario con i miei io non sono andata con lui perché ero disperata e lui non è più tornato da me mi sento in colpa per questo nei suoi ultimi anni ho fatto di tutto per curarlo pu dirlo perché era diventato cieco e vivevo in simbiosi con lui e poi mi ha lasciato non in mia presenza mi ha dato segni meravigliosi dunque di lui spero mi abbia perdonato chissà ma di sicuro di sicuro gli animali guarda nella vibrazione dell'amore sono qualcosa di meravigliosi sulla terra figurati sono meravigliosi ciao Cinzia ciao Cinzia Freddy 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 vai Pati continua a pensarlo che ce la facciamo ah Manuela ecco ti qua Freddy è mio amore ho pensato una strofa particolare ed aveva un senso proprio con la strofa di quella canzone per quel contatto super evidenza grazie chi è che ha scritto? Lara Lara Jerry preparati perché mio padre cantava sempre mi ritorno in mente di Battisti ti faccio creare eh già il film solare è fatto di metafora o di realtà mi potete aiutare a interpretarlo a me all'inizio è inquietato molto grazie siete una botta di positività allora sono dei concetti che vanno capiti quelli del film solare è stato fantastico che questo film è stato tradotto in italiano perché ad esempio io mi ricordo che quando lo guardavo nella lingua originale non riuscivo a dargli l'interpretazione giusta è chiaro che c'è un passaggio dove si vede il peso di ciò che accade alle anime ma soprattutto quando le anime rimangono attaccate ehm a quello che è il piano materiale e quindi quello che è il passaggio che fanno eh verso la luce il rimanere in una determinata vibrazione che però viene causata da loro stessi e quindi ehm l'interpretazione viene data perché ovviamente come diceva Jerry è un film che andrebbe visto più di una volta e andrebbe capito nel senso giusto quindi si vede effettivamente nel percorso ehm quello che è la nostra evoluzione ma è di questo che si parla sì credo che che spieghi in un modo come dire ehm abbastanza eh realistico secondo la mia idea eh sempre ciò che avviene ma parliamo di evoluzione quindi dovremmo fare veramente un dibattito parlando del film di non solar però magari una volta si farà anche questo allora Katia che dice che facciamo la medianità il 2 febbraio ragazzi se canta ve lo dico non posso registrarlo sono lì anche e con lui però se canta ve lo dico infatti ti dice se in casa lei ti vengono in mente Katia tra un po' esce la parte successiva di non solar wow fantastico non lo sapevo neanche io grazie Katia ciao Nicoletta ciao Nicoletta Sara nell'oltre oltre a sentirsi immersi nell'amore si provano anche altre emozioni sì certo comunicano con le emozioni certo io intanto mi sistemi i capelli allora Lara ma la serata di medianità pubblica verrà fatta vedere anche in diretta no perché sugli schemi di canale 5 dai perché schemi di canale 5 tagliamo no in realtà no è una dimostrazione cioè che poi è con l'onio monzese sorpresa sorpresa no è una serata che come dire abbiamo organizzato ma no non è in diretta non abbiamo ancora quella tecnologia lì così avanzata Mari sì ho vissuto questa esperienza 17 anni fa ah ok sì l'NDE stavo andando via ed ero cosciente in quel momento mi dispiaceva lasciare i miei genitori ed ero tristissima per loro poi ho rivissuto al contrario la mia vita come fossero immagini ferme ma che andavano indietro sempre di più negli anni cose che non avrei mai ricordato poi la luce ci entro ancora cosciente di quello che mi stava accadendo e poi quando stavo per uscire nella luce sento una spinta all'indietro aspetta c'ero quasi entrata con il corpo qualcuno mi ha spinto e mi risvegliai miracolosamente la sera dal giorno dopo questo evento cavoli cavoli sì no io non ho rivissuto in realtà la mia vita io è accaduto all'improvviso ovviamente quindi non ho avuto il tempo di rendermi conto di niente ho avuto questo senso di pressione mi sono sentita salire verso l'alto e poi mi sono trovata all'improvviso in un posto dove c'era come come dire come le giornate invernali quando c'è la foschia c'è la nebbia piano piano questa foschia ha cominciato a dissiparsi ha cominciato a vedere colori a distanza hanno cominciato ad avvicinarsi delle ombre ma non sono riuscita a capire chi fossero perché una voce mi ha detto che dovevo tornare nonostante che non ne avevo assolutamente nessuna intenzione quindi non è che bastasse tanto ricordarmi chi avevo qua però questa voce ripetei che dovevo tornare che i miei compiti non erano finiti e da lì ho provato una sensazione di dolore rientrando nel corpo fisico e me lo ricordo sono passati guarda molti anni ero una ragazza avevo 23 anni 24 avevo mia figlia piccola ma la sensazione è rimasta esattamente come se questa cosa l'avessi passata ieri perché non ti va più via ti resta veramente impresso allora però grazie per la condivisione grazie mille Maria grazie sempre un piacere avere sai dei confronti in questo perché ci sono sempre dei risvolti diversi infatti a me fino a solare mi ha dato molto fastidio e fate vedere le persone come se fossero in un ospedale e mi sono detta qui non è cambiato nulla poi l'ho interpretato nel modo giusto ho capito bravo bravissimo bravo bravo io però abito piuttosto lontana chi è che abita piuttosto lontana Lara Innocenti per la medianità pubblica di Cologna ma sì ma capiterà come dire capiterà ancora qualcosa adesso che so che lui canta uff non 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 lo abbandono più e quindi e quindi ci sono dei miei video che canto ai concerti sono stonatissimo sappilo sei stonatissimo fantastico non non mi rega niente canto lo stesso eh appunto ecco capito visto com'è cioè pazzo sì è bello parlarne è bello avere delle condivisioni perché come dire è un modo anche per riuscire a avere dei confronti che non è facile avere e anche per avere sai dei punti in più ad esempio ovviamente abbiamo avuto un'esperienza simile ma diversa perché ad esempio come ti ho detto io non ho visto la mia vita ma ho visto questo in realtà c'era la nebbia poi c'erano questi colori che continuavano ad alternarsi l'uno con l'altro particolarissimi infatti vedi leggendo libri dove si parla di NDE ho avuto la conferma perché alcune persone hanno parlato di colori che per assurdo non esistono da noi quindi sai è un modo anche per avere conferme a nostra volta però ecco io ad esempio non ho visto la vita a ritroso non ho ho avuto però questa sensazione quando sono rientrata nel corpo fisico di dolore quello me lo ricordo bene qui ci stanno invitando andare a Roma venite a cantare e suonare a Genova ci sono facciamo un concerto facciamo una dimostrazione pubblica cantata si eh ci può stare ci può stare eh si è così dopo 5 minuti ci portano via tutti e due alla neuro si infatti ha una bella cura ci tengono là io sono in provincia di Novara a 15 minuti no vabbè se entrano nei profili io sono in quelle zone ok quindi potrò ad entrare nel mio profilo perché io non solo lì possono trovarle scusa se dico questa cosa no no certo vedo se entrate nel mio profilo ci sono le più o meno le città che vi sento le sue serate ebbene Gianri siamo siamo arrivati aspetta che mi sta rispondendo con il pianoforte c'è Nicola laura entra chiedimi scusami chiedimi l'amicizia se non ce l'hai già su facebook così vedi le locandine sì assolutamente sì Nicoletta condivido il tuo pensiero che sono dei film fantastici t'ha scritto dal miglior medio al mondo Mari sì è vero diversa modalità diverse ma comunque nelle ricerche che ho fatto anche io cioè sia la mia vita che la tua di esperienza davvero incredibile parlarne come riviverlo sì è qualcosa che non svanisce almeno nel mio caso non è mai svanita questa cosa qui è sempre se ne parlo è come ritornare esattamente in quel momento e rivivere quell'esperienza perché vedi adesso dopo chiudiamo però anch'io non ho un'esperienza di come la tu ho vissuta però mi ricordo di quell'incidente che feci intorno ai 15-16 anni in un cantiere che stavo finendo sulle chiamate dei ponteggi delle armate delle solette sono caduto da 6 metri c'erano questi ferri alzati in piedi e io cercavo di aggrapparmi al ponteggio per non finirci dentro ma a 50 cm a un metro neanche da questi ferri mi sento proprio sollevare spostarmi ho sempre queste immagini e questa scena in mente non è mai andata via e stavo costruendo non ridere il residence Federica no sono molto serissima vedi sono dinamiche diverse può essere che anche quella sia stata anche perché 6 metri non sono pochini a cadere e cosa ti sei fatto no mi si è gonfiata solo la milza perché e proprio mi hanno adagiato su delle macerie che c'erano lì in parte mi hanno proprio mi sono sentito sollevare proprio così spostato e appoggiato sì ho sentito la botta ma non stavo finendo sulle chiamate potevo finire infilzato tranquillamente infatti tutti si sono messi la mano sui capelli cavole tutti perché c'erano le chiamate in piedi ferri proprio in piedi come un porcellino scusate mi hanno preso e fatta scusa per farlo scusatemi però mi hanno proprio sollevato ok aspetta tutte le mani così è adagiata ho solo la milza ma il caso è quello che ti voglio dire è che il residence si chiamava proprio Federica e io dopo eh cioè è tutto un caso io ci penso adesso perché a botta adesso sono dentro in questa situazione quindi faccio uno più uno però cavolo pensandoci dopo guarda leggiamo ancora il messaggio di Nicoletta ma lei è meravigliosa vedere la vostra medianità dal vivo trasmette realmente vibrazioni che fanno toccare il velo che separa i nostri mondi grazie Nicoletta grazie grazie e poi c'è Michela mio figlio è stato sbalzato dalla macchina chi ha visto la scena hanno visto come se qualcuno lo ovesse preso in braccio ed evitato il guardrail sì sì perché abbiamo un compito da portare avanti e questo è per te grande buttati che morbido vai siete fantastici grazie ragazzi siete fantastici però buttati che morbido ci voleva sì sì no ma è stato proprio assurdo cioè poi dopo ritorni dici non sono andato lì perché ho un altro cammino da fare quindi piano piano mi tranquillizzo certo certo assolutamente dovevi rimanere qua non sono riuscita a farti cantare però vabbè ci riuscirò prima o poi certo prima o poi va bene Gerry grazie mille grazie a te dell'ospitalità grazie di cuore no grazie a te che hai accettato di stare ci mancherebbe altro e niente un baciotto a tutti voi che siete stati in nostra compagnia tanti baci e una buonanotte noi ci vediamo martedì ciao 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 a tutti buonanotte notte